In questo nuovo video di Alice delle cristalle magiche Allora, questo è il mondo mio e di Nicollo Ovviamente, lei è blu e me è rosa Qui ho fatto una fontana troppo carina Solo che, allora, ho fatto almeno due video dove costruivo questa casa Però, beh, ogni volta mi si buggava Quindi, cioè, mi si è chiuso due volte il video praticamente E ora, visto che ormai l'ho fatta la casa e non la voglio più distruggere Lo addobberemo insieme Dovevo fare, quindi, dicevo, il tavolino Quindi, il tavolino lo vorrei fare tipo così Prendo tipo questo legno O questo, lo prendo qua, così E ci metto sopra la tavoletta, quella, come si chiama? Tipo questa qua, ok? No, questa Questa qua, oh E ci metto questo Quindi, nelle sedie, io le volevo fare così Guardate, prendo questo Perché io so come si fanno Quindi, dicevo, si fa Allora, io un tavolino lo faccio così Quindi, le metto due Così Poi sopra ci metto Questo, 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 questo E le sedie le faccio così, prima Metto due di questi Però, a questo punto, le devo mettere staccate Quindi, lo metto, per esempio Vi faccio una sedia così, a caso Per farvi vedere, per esempio Prima, così 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 E poi torco il blocco Guardate che bella sedia E infatti, adesso La volevo fare proprio così Però non la posso Quindi Cioè, adesso tolgo tutte queste cose che ho messo E la faccio qua Però il problemino È che è troppo stretto Quindi E poi non è un problema Un po' più Quindi Magari le sedie le facciamo attaccate così Va bene, lo stesso No? Vabbè, io ti provo Perché non le so fare Quindi Io provo a farle così E E E' fatti Vole Più Quindi Poi Chiudo da questo lato Chiudo da questo Chiudo da questo Chiudo da questo E Spoglio Questo E Rimetto E poi Così già E' una meravigliosa Seriolina Adesso però Mi era venuta l'idea Anche per Sottile Di fare Questo Tipo 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 Ok Adesso Facciamo Tipo Ok Il tavolino È finito Perfetto Un beso Doviamo Al massimo Ci metto Un vaso Per ribellire Bene Allora Qua ci mette Il comodino Di Nicole E qui c'è il mio E qui sopra Ognuno ci mette Un vaso Perché Quindi Ok Vaso Preso Adesso Sto Chiume Ok Sì Vabbè Ho sbagliato Che vuoi Con velocità Quindi O Sì Ovviamente Questo qua Azzurro Per Nicole E' un fiori, fiori rosa Dai, dai, fiori rosa No! Fiori Fiori No, niente, devo cercare i fiori rosa Niente Adesso, aspetta che devo togliere questa stessa Adesso, ci sarò sicuramente a tre ore e sette di fiori Però ricerco lo stesso Ok, mi sa che ci stiamo Oh, et voilà, finalmente Ok, mi metto questo viola Ok, ce l'ho fatto Mi metto questo viola Prendo No, la fiori è aperta Poi metto questo qua Metto questo qua Che carino Che bella fossa Mi piace Perfetto No Ok Grazie 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 Scusate, ora non c'è bisogno chiuditirlo perché ormai lo sapete. Scusate che è così successo, ovviamente mi sono andata la connessione, quindi li faccio qui un reticino, ok che ci sta molto carino, e allora qui ci volevo fare tipo un tettino di danni, non lo so perché, voglio fare un tettino di danni, ok così, ok, ok così va bene, tipo, si dai ci sta. Adesso qua vorrei mettere, tipo, quel cosino per abbellire, un divanetto, si dai un divanetto. Allora lo metto ovviamente di colore rosa, e li metto questo, lo metto, questo è un po' divertimento, così, due, così, e così, poi ne metto uno che gira verso di qua, e un altro che gira verso di qua, no, che gira verso di qua. Ok, allora è un divanetto, è un divano bello grosso, quindi ho detto, di accorciarlo di qua, si è infatti è ancora bello. Adesso io di questo lo metto così, e di questo lo metto così, è, se no e non è un divano bello, e non è un divano bello grosso, ora io ci metterei tipo, allora, a dire, boh, no, 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 Allora ragazzi stavolta mi sono messa, stavolta non è stata per la collezione ma perché mi sono cambiato stanza quindi per questo. Adesso sto mettendo questo regno e poi ci metto la tv ovviamente. Adesso cerco tra i blocchi. Ovviamente voglio il numero scuro, lo metto a posto di questo che tanto non mi serve più. Ok e ora per ultimo, per fine casa, metto questo e faccio così. La 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 alleluia abbiamo finito, è venuta, è finita, finalmente è una costruzione per me e per me e per me e per me e per me, spero che e per me e per me e per me, Ok, faccio così Ok, è già avvocato Ok, fatto La casa è finita, spero vi sia piaciuta Ci vediamo in un prossimo video che lo farò verso le 6, 3, 5 Vivo Ameriggio Quindi vi faccio un tour Benissimo Qui c'è il letto con i tori Vivo pure per me Guardate Guardate Ah Ok Qui c'è quello di Lincoln Qui c'è questo meraviglioso Che giorgina E poi tu fai così Ok Poi Qui c'è il meraviglioso Il divano Spero di non ne aver Appena ho detto di non aver distrutto tutto Ho distrutto tutto Quindi Vabbè Qui c'è questo divano Che è finito di così Forse è un po' troppo appiccicato Certo 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 Perfetto Ehm Il video ci conclude è qua Ci vediamo al prossimo video che sarà Non so Su Perfetto Comunque Ciao Ciao Ciao